E' stata una cerimonia privata quest'anno nel rispetto delle norme anti-Covid-19 a ricordare l'anniversario della tragedia di Piazza San Carlo del 3 giugno 2017 durante la finale di Champions League che causò due vittime e 1.527 feriti. Nel cortile d'onore di Palazzo Civico sono state ricordate Erika Pioletti e Marisa Amato, le donne morte per le ferite riportate nella calca. Insieme ai familiari la sindaca Chiara Pendino, il presidente del Consiglio Comunale Francesco Sicari, il prefetto Claudio Palomba, il vicequestore Carmine Grassi e i rappresentanti della Juventus e dell'associazione Quelli di Via Filadelfia. Due corone di fiori, una della città di Torino e una della Juventus sono state deposte anche in Piazza San Carlo. Sono momenti toccanti, ci ha fatto piacere, ci farà piacere anche che adesso il prefetto ha detto che darà la deroga per appostare la targa in nome di Erika e di mamma. Ci fa piacere perché pensiamo che siano due persone che se lo meritavano. Grazie a tutti.